Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Porto Viro, siamo nella casa di Halloween, una casa allestita per la passione dei titolari dei padroni di questa casa che adesso noi andiamo a scoprire tanti bambini che naturalmente adesso non riprendiamo per questione di privacy e vediamo un pochino questa casa che è veramente straordinaria, una casa privata che viene adobata anche per Natale in maniera particolare e che per Halloween si veste in questa maniera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora qua siamo con Larry che con la moglie Laura ha fatto questa meraviglia, ma da dove nasce questa voglia di stupire? Niente, siamo partiti da una piccola zucca, siamo arrivati così in grane nell'arco di 4-5 anni, la moglie è lei l'inventore di questa cosa, io sono in braccio. Bravi, ci vuole sempre una coppiata giusta, però anche a Natale fate qualcosa di straordinario, quindi la vostra casa è una città aperta. Sì, è sempre per tutti i bambini, chi vuole venire a vedere, sono tutti invitati, è venuta gente da Ferrara, da Chioggia, da Rovigo, da Adria e ci ha fatto molto piacere. Ecco, diciamolo dove siete, Porto Viro, via? Via, primo maggio 14, barra di insomma, è la nostra via, è la nostra vieta privata. Mi raccomando, attenzione, perché ci sono tante persone che vengono a vedere, un po' di calma e tutti possono entrare nel nostro piccolo bunker, insomma. Grande e complimenti. Grazie mille. Salve. Ciao.